il mio amico il mio preferito Anthony non sappiamo che... non c'è... non c'è una truca in televisione non dici così ma lo sanno che la rompia era 50 è successo con un amico mio un autore che mi faccia di decidere ai nostri cazzoni mi dicono i cazzoni mi sentono solo 500 non mi spiando più una cazzoni ma noi stiamo scherzando no lo so i 50 euro me lo darà comunque tutto a posto Mietto un dera e vieni si cammini. Vuoi ingiungere la miseria che stiamo all'aria, eh? Siete a posto? Bene, bene. Sono felice di stare qua questo pomeriggio, anche perché sono tanti amici, colleghi, persone conoscenti che poi stanno in sala. Poi c'è stata la televisione che ha ricevuto, ci fa compagni comunque qua su T-Urno. Ma ci c'è un po'? E' un terrore. E noi siamo inviati di questa televisione dei fratelli Mariano. Che riconosci bene. E i fratellini. E i fratellini. Bindo. Sì, sì. No, chi l'ha? Bindo. Sotto l'acqua. Non ha cominciato, perché quando vedi la registrazione è finita. Amore, amore, cosa ci farei ascoltare? Penso sabato e domenica sicuramente, un altro pezzo. Eh sì, perché dalle domenica. Poi sarai il pezzo insieme a Fabrizio Ferri che è qua con noi. Vediamo, non lo so, perché poi va a parte in una maniera e finisce in alto. No, vediamo l'ora di ascoltarti. Senti. Vai. No, sono nati fin d'Europa ormai. Vogliamo. Ancora. Stiamo assittando. Ancora. A volermi giù. No, no, no. A volermi giù. Ok, c'è il targato Napoli. Arate che palla. Tale e quale a te. Un bacio, ragazzi. Tutti a sta zitta. Tra poco. No. 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 No.